Diventa definitiva la condanna per otto persone originari di Mazzarino, accusate a vario titolo di violenza sessuale e tentata a prostituzione su una minorenne. Gli otto, dopo la condanna emessa dalla Cassazione, sono stati arrestati dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, Villanova d'Asti, Catania e Ragusa. La corte d'appello di Caltanissetta li aveva condannati a pene che oscillano tra i 4 e i 6 anni. Gli imputati finirono nei guai nell'ambito dell'operazione del 2007 denominata Sin City. Fu il padre della vittima, allora minorenne, a raccontare tutto ai carabinieri. Gli otto in più occasioni avrebbero approfittato della ragazzina quando aveva ancora 12 anni. La vittima in fase di audizione confermò tutto indicando anche i particolari dei luoghi in cui subiva le violenze. In carcere sono finiti Angelo Ferrigno, 58 anni, Salvatore Chiolo, 67, Luigi Azzolina, 49, Giuseppe Portello, 38 anni, Cristoforo Boscaglia, 72, Carmelo Ridolfo Nicastro, 46, Roberto Culisano, 39 anni e Irina Pricop, rumena, di 30 anni. Dopo le formalità di dito sono stati tradotti nelle carceri di Gela, Caltagirone, Ragusa, Catania e Torino. E nell'ambito di un'attività anticrimine di polizia giudiziaria e amministrativa del commissariato di Gela, gli agenti hanno arrestato due persone denunciandone quattro a piede libero. Filippo Russotto, 49 anni, e Orazio Talarita, di 33, sono stati ammanettati per evasione. Le ordinanze sono state messe dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta. Un neggerese di 57 anni è stato allontanato d'urgenza dalla casa in cui abitava per continue vessazioni nei confronti della consorte e quanto disposto dalla procura di Gela. Lesioni personali e minaccia è invece l'accusa di cui dovranno rispondere un 48enne ed un 46enne. Un 19enne invece è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Nell'ambito di specifici servizi, la Polizia Amministrativa e Sociale ha eseguito controlli nei locali di intrattenimento della Lungomare e del Centro Storico, ispezionate due attività commerciali, contestate tra infrazioni e controllate 26 persone.